dobbiamo aspettare o la possiamo preparare? questa è la parte più camorriuta poi non prendiamo quel discorso della temperatura che è il pezzo dei baglioni questo eh? cantala più il male preferito eh? l'uccello qui c'è gente che lavora questo mi sembra tanto la chitarra orrida che ho suonato io ti porti la mia acustica anzi se me la suoni mi fai una cortesia perché ha le corde nuove ed è una merda registrare con le corde nuove come tutte cazzate cioè si si infatti è la suonata tu è proprio quello nel senso si si è la suonata tu è vero siamo? aspetta 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 è un'esercizio è un'esercizio Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info www.mesmerism.info Tutto molto menato www.mesmerism.info 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 e come sono fatto in gran per cento si, sei giusto come non ho letto a tempo io nessuno due angeli a mezz'aria non osano guardarmi in faccia sembrano preoccupati per me amore mio mi sai dire il perché